salve ragazzi eccoci allora allora prima di continuare vi voglio fare una premessa quello che abbiamo fatto prima che abbia affrontato i due giganti tutto il resto appresso la gattina mia è impazzita noi quella la si sono sbagliato si faceva con una torretta automatica semiautomatica in un carretto carretto militare carretto militare la cosa divertente a me o così mi ricordo e potrei dire una grande sciocchezza e monela sei tu aspettate ecco ma impazzisce nerina allora stavamo dicendo scusatemi è praticamente successo che quando fatto le sue le due divisioni che i giganti la fronte in un modo e poi c'è ecco allora si confermo che quella cosa in automatico del carro militare contro i giganti invece l'hanno tolte ci schiattiamo è piaciuto ok cazzo tiene pure una bella pistola che culo no dall'altra parte era errore mio errore mio errore mio mi ero messo e c'è al gioco no non ho messo e c'è al gioco ok ho sbagliato stavo dicendo comunque hanno fatto sta cosa molto più hanno voluto farla un po' una citazione come era nel inclinati aspetta così si ribatta stiamo deragliando dammi una pierna fai qualcosa per quelle tavole oh yeah cambia l'enario altrimenti ci schianziamo bello questo questo fa ma sì 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 finalmente un po' di parte a sinistra merda così si ribatta stiamo deragliando dammi una mano merda così si ribatta ok sono serio? non so cosa fai pazzo psicopatico ok ok check pot ah tutto qui? sul serio? tutto qui? finito? sul serio? vediamo di no siamo soltanto all'inizio eh magari con la pistola era bella infinita vabbè andiamo bello mi è piaciuto sono morto solo una volta che ho sbagliato come ok ok caraffa una caraffa cosa roba buona roba buona ah ok era solo chi poteva anche ah ok un altro ma stai a dire sul serio eh andiamo vediamo se stavolta dovresti essere contento speriamo in bene minchia quanta velocità stiamo deragliando dammi una mano ehi si sta per ribandare guarda cos'è si ribandca guarda chi arriva idioti non dire cazzate non dire cazzate oh figo ce l'abbiamo fatta oh figo ce l'abbiamo e e Grazie a tutti Fine della corsa, stronzo Ehi, si sta per ribaltare! Che mazzo Di fungo? È un altro fungo, un parassita Ma che è? De la sto pazzo Fammi dobbiamo, si rompe! Dai, tre! Che faccia sua! Oh, mi è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta È rotto, sta là Dai lui, se tanto muori dopo Spoiler Tanto lui morirà in un determinato modo Tanta roba C'è andato di lusso Voglio, c'è andato di lusso Comunque, scherzo a parte Possiamo scendere Andare di qua Non si può salire Però si può scendere Arrivare là, ok Stavo guardando un po' il percorso Allora, tanto lui è ancora vivo Lui rimarrà vivo con noi Almeno fino a un certo punto Che poi more Però Io ho saputo Che la sua morte È diversa da qua Cioè Nell'originale in un modo Nell'remecchio in un altro E infatti sono mezzo curioso Ci mancava questa Possiamo arrivarci facendo il giro Forza Ah, che rottura Ah, di là a me Eh, va a dirlo a me Ancora Uh, fammi indovinare Quei cosi si sparano Aveva la sensazione Non c'è No shit Ah, non c'è Ah, quindi Non c'è Ah 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 oh che figata che c'è risolto Ah, è andato Oh, finalmente una cosa buona Crea Finalmente Mi sa che non ho più nulla Non preoccupare, serviva per potenziarti Ah, sono due percorsi Allora Furbacchione, chi l'aveva visto? Ok Lo sapevo Sai che? Sono nelle mura Io non lo vedo subito Perché la telecamera Oddio Ecco, ma mi ha spaventato Ah, allora dovevo per forza passare per di là Che parema Vabbè, giusto perché dovevo Oh, sembra qualcosa di grosso Odio gli insetti Pensaci tu anche per me, va bene? Che ne dici di aprire il fuoco anziché la bocca? Ehi, io sono la mente Tu il braccio Ehi, io sono la mente Ok Ok So che quelle al muro Io non li capisco Sono troppo camuffati bene Troppo camuffati bene Aspetta che ricarichiamo un po' di munizioni qua No, veramente Mi frega troppo Quelli là al muro Mi fottono Oh, finalmente crea Si fa dura Ah, vedi Sono due munizioni distinte separate Cavolo Lola Lola C'è uno lì Si, sta andato guardando Apriamo qui Dai Large Quindi sai quanti big money Ottimo No, io quelli a muro Devo capire Sì, stavo già tutto il giro Ok 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 Uh, trovato Ma che cazzo Si è capottato male Eh no Non può essere capottato male Uh Fratello Ah Vedo che ti sei occupato di una richiesta Ben fatto Attimo lavoro Bene Che posso fare per te? Eh, prima cosa Cosa? Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Ah 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 Questa sì che è una garanzia Attacchi preziosi in un tour Perfetto Oh Finalmente una cosa buona Ora poi Abbiamo Qui Benvenuto Oh Che vuoi comprare? Straniero Oh Per questo articolo pago molto bene Un gioco da ragazzi Mi raccomando Trattalo con cura amico Cavolo Sfiga Potevo potenziarlo Mi serve Cazzo Potenziamento Oh però posso potenziare Provala E vedi come va Bene Che posso fare per te? Vuoi vendermi qualsiasi cosa Più o meno Potevo potenziaria Potevà Poteva 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 Non lo capisco Quindi vuol dire che non ho le munizioni Vabbè salviamo Sono 16 capitoli Siamo ancora all'undiceso Però forse la finiremo Comunque la finiremo Secondo me se tutto va bene Poi finiremo l'undicesimo capitolo E arriveremo al dodiceso ragazzi Poi ci mancheranno Veramente poche cose ci mancano Se ci pensate Ci mancheranno veramente poche cose Kugama I mitraglietti la potevamo anche tenere Comunque Ormai l'ho venduta Mi serve uno sotto Sono stremato Meno male che la tecnologia ci assiste Non ti capisco Perché rischi così la tua vita Non ci conosci neanche Te l'ho detto Mi fa sentire meglio Dimmi la verità per una volta Los Illuminados Lavoravo per loro Ecco la verità Aiutare voi due non è abbastanza per redimermi Lo so Però Non voglio che ci siano altre vittime Allora Vedi di fare sul serio Che noia che sei lì Noi è dure per uno scudiero Siamo fuori da quell'inferno Sono pronto a respirare aria fresca Por fin Perché Se siamo arrivati fin qui Vuol dire che siamo quasi Quasi cosa No Digicore Da quanto tempo non ci si vede matricola Maggiore Krauser Ma che cazzo Perché Recupero oggetti rubati E Uccido qualche ratto Nel frattempo Un lavoro facile Ashley È stato lei Tu sei sveglio Non te l'avevo insegnato I coltelli Sono più veloci Ma combattere adesso contro di lui No Lui ero tra i boss finali Da affrontare Uno dei boss finali Veramente lo affrontiamo per prima Non mi ricordo Dobbiamo affrontarlo per prima Aia Dobbiamo affrontarlo per prima No Sappi Che abbiamo appena iniziato Ma Quella Quel culto la sta controllando Questo non c'entra con loro Sono un uomo libero Che ha fatto una scenda Quindi Dobbiamo combattere a coltello A coltello Allora Perchè cominci Allora Faccio una parentesi un attimo Nel Nel capitolo originale Questo sconto era A quelli là tipo push È presente che Era tutto Cinematico Tu dovevi premere i tasti Al momento giusto Perchè era tutta cinematica Quindi Se quello attaccato Dovi parare Dovevi premere il tasto Nel momento Un'altra cosa Aveva un termine specifico Nella ps2 In quel periodo Click time Click ball Non mi ricordo Comunque Ogni azione Dovevi premere un triangolo Cerchio Quadrato Quello Quello Quell'altro Quell'altro Premere veloce Di qualcosa O XX Cioè Dovevi fare tutta sta roba Qui invece adesso è uno scontro proprio Senza Così tempo Figo Sei dell'ombrella Ecco Aia 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 Ah ma sono stupido Posso usarlo Faccio supera C'è annunci su tutti Senza onore Senza pietà Con una furia devastante Che c'è male A fare la stessa cosa per me Krauser Lo capisco Quello che è successo è Imperdonabile Ma non le dà il diritto Di ferire persone Sono innocenti Bello Sempre tutte cinematiche L'hanno messe comunque Figo sto scontro Ora basta matricola Non sei cambiato per niente Sei una vera delusione Ah ecco perché non potevamo affrontarla adesso Ci è andato un anticipo Praticamente Perché lui lo affrontiamo dopo Non ho una bella cera Vero Una grande perdita Per tutte le donne Che pareva Non parlare Prendi questa La chiave del mio laboratorio Vai lì E rimuovi Quei dannati Parassiti Aiuta Ashley L'accendito dell'ombrella Sai Ho avuto una vita di merda Ma ora Oh che ne pensi Leon Le persone possono cambiare La morte Posso dire che è molto più figa Qui che nell'originale Nell'originale moria invece per colpa di qualcun altro Non vi dico quali Chi Se non andate a vedere chi Però Qua è molto più figo Perché quando me muore là È brutale E basta Cioè poi Lo rivedi A terra morto E basta Invece qui hanno fatto Poi la tutta cinematica C'è sta tutto C'è sta tutto Bravi Mi piace Mi è piaciuto Molto di più dell'originale Giustamente Sei stato valoroso Don Quixote Luis Lassi qua Passerai liscia Ora c'è Comunque l'area è molto diversa Se dobbiamo paragonare Al gioco Perché dove era morto Lui era nel palazzo Sì sopra Diamo nel castello Ragazzi Qua siamo ancora dentro qui Chissà Come è cambiato Ok qua no Comunque è cambiato molto le aree Perché ci stanno dei percorsi Che non esistono più Rispetto all'originale E hanno tolto il combattimento Secondo il gigante Dove stavamo io E Ashley Non rompere Putta Scusatemi Ma io non la sopporto Eccolo qua Questo qua Oddio Questo coso Esiste nell'originale Ma è un po' più diverso Visivamente Cioè non è proprio così Ah c'erano cose Anzi Tutta sta parte qua L'ho un po' più ignorata Non mai ricordo sto percorso Non l'ho fatto Sul serio Comunque ragazzi C'è da dire Che c'è tanta roba Guardate che bella mappa Che è E' un bel open world Alla fine Ok in realtà Sono micro aree Ricorda che sparare Fa rima con giocare Straniero Benvenuto Come posso essere Non posso fare nulla Le tue armi Sono in buone mani Amico Lascia fare a me Ciò che vedi È tutto quello che ho Hai un gusto Il tour Non presto a trovarci Figo Bene Ragazzi Io qua salverei E stacco Capito 12 E ci aggiorniamo Qui del 38 Al prossimo video Passo e chiudo Bye ragazzi Bye ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti